Lascia che ti faccia dono di un segreto. È solo con il cuore che si può vedere veramente. L'essenziale. Il piccolo principe, dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry, il capolavoro di poesia narrativa per giovani lettori e non solo, ha compiuto oltre 70 anni e continua ad essere punto di riferimento nei processi educativi. L'associazione di volontariato culturale Pazia di Salandra, in provincia di Matera, ha organizzato un percorso di lettura e commento presso la biblioteca comunale con bambini di terza e quarta elementare. Un percorso formativo che ha avuto il patrocino del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Basilicata, Vincenzo Giuliano, al termine del quale vi è stato un riconoscimento con la consegna di un attestato. A spasso con il piccolo principe, ha sottolineato la presidente dell'associazione Teresa Russo, è stata l'occasione per riprendere uno dei cardini del racconto, imparare l'essenziale, ciò che è invisibile agli occhi. Quello che noi abbiamo cercato di trasmettere ai bambini con questo laboratorio, con questa attività di lettura, era quello di imparare a prendersi cura degli altri in maniera molto naturale, senza nessun artificio. Quindi per i bambini è stato importante lavorare proprio sui propri sentimenti, quindi gli affetti, i legami, le relazioni, è su questo che loro hanno lavorato e hanno creato un bellissimo gruppo. Il racconto, come dimostrano le risposte dei bambini che hanno partecipato all'iniziativa, è stato vissuto come un messaggio di amicizia, nonché di riscoperta della bellezza dei sentimenti e dei valori, la purezza, l'armonia per l'universo, oltre che per tutti gli esseri viventi che lo popolano. Mi ha fatto capire il significato della frase, l'essenziale è invisibile agli occhi. Noi l'essenziale non lo possiamo vedere, ma lo possiamo sentire col cuore. Essere responsabile significa tenere tutte le cose sotto controllo, senza perdere nulla, tenere pulito l'ambiente. Qual è il diritto di un bimbo o un dovere di un bimbo? Il diritto di andare a scuola è il dovere di ascoltare i propri genitori.